buongiorno buongiorno a tutto il mondo ecco l'unica nave della mia traversata cefalonia catania che diciamo così relativamente passata vicino e io stavo dormendo come al solito dormivo ho dormito così tanto in questa traversata che appunto come dice la canzone è difficile spiegare la mia piccola radiolina che già a 89 miglia da catania ha iniziato a grecchiare una bella mattinata orizzonte liquido il nostro bel sole che si alza eccolo lì il nostro sole ecco il mio piede marino e lì dovrebbe essere il circolo velico tamata e qua ci sono io come vedete stamattina c'è un po' di freschetta mi sono coperto e dunque berretta di lana giacchettino ma si può stare anche senza solo che avevo un piccolo dolorino qui perché ieri sera mi sono messo a cercare un rumore a pua allora senza berretto sono stato fuori e ho preso un po' di freddo cerchiamo un canale migliore ecco questa è la vita da solitario ciao a tutti ciao ragazzi ciao arrivederci a sicuramente domani mattina perché 89 miglia è difficile che le faccia domani mattina sicuramente ci vediamo ciao ah ragazzi mi raccomando eh fatemi trovare una granita e una brioche ciao a tutti